Ha debutato nel cinema nel 1972 e in I familiari delle vittime non saranno avvertiti. In televisione è comparso in due episodi della serie televisiva di genere poliziottesco del 1973. Qui Squadra Mobile, prodotta dalla RAI, nel 1975 ha preso parte allo sceneggiato televisivo ritratto di Donna Velata. Nel 1976 è tornato al cinema in O. Mia bella matrigna, il cui cast comprendeva anche Sabina Ciuffini e Gloria Piedimonte. Nel 1977 è passato al mondo della canzone incidendo il brano Stai con me, sigla di una trasmissione di Radio Monte Carlo. Nel medesimo periodo ha interpretato numerosi fotoromanzi, ad alcuni dei quali partecipa anche l'allora ancora semisconosciuta Barbara De Rossi. Nel 1980 De Angelis ha partecipato al Festival di Sanremo con E pensare che una volta non era così. Brano che non viene ammesso alla serata finale e non riscuote neppure un particolare successo di vendite, più avanti. Nel 1993, De Angelis è tornato ancora al cinema con il film C'è Kim Novak al telefono. Girato fianco di Jacques Perrin, Anna Falchi e Silva Coscina la sua ultima apparizione cinematografica. De Angelis ha avuto modo di ricoprire nel mondo dello spettacolo anche altri ruoli quali l'attore. Di teatro, l'assistente alle riprese, 1999, in Il mio viaggio in Italia.